Durante il lockdown nel mese di aprile non si poteva uscire di casa e ci sentivamo tutti un po' oppressi. C'era chi cantava alla finestra e così mi sono letta il diario di Jung, ricordi, riflessioni e devo dire mi ha aiutata, non solo di giorno ma anche di notte. La sostanza dei sogni era cambiata e mi sentivo meno oppressa. Eh sì, la lettura crea indipendenza.